Questa qui è Varsavia, questo è enorme come paese, è stato il paese della velia di questi prossimi 20-30 anni, perché è un'enorme steppa che non è stata ancora sfruttata, la quale ha delle rivendicazioni ancora di odio nei riguardi di Napoleone, di odio nei riguardi dei russi e di odio nei riguardi degli tedeschi che l'hanno dominata. Allora qui non è altro, ci sono delle scatole che hanno fatto la nuova costruzione e qui c'è quel bruttissimo monumento palazzo che ha voluto i russi della cultura, questa specie di enorme cose, e loro hanno tutte le finestre, ogni finestra ha una paragola, perché hanno poi il desiderio immenso di contattare il mondo, stanno facendo la prima metropolitana e in fondo c'è questo paese sterminato ancora con questi collini dove là ci sono tutte le miniere, dove ci sono tutte le officine eccetera eccetera, questo è l'albergo Forum che è nel centro di Varsavia, che ti inghiotti in questo paese del nord di Grattacè, e in fondo le tue finestre c'è un altro palazzo che è quel casino, in centro di Varsavia c'è un casino, perché la gente va a giocare, perché rifarsi, insomma è un'atmosfera proprio dell'epoca di Varsavia di Varsavia di Varsavia di Varsavia Grazie Grazie